Buonasera, sono le 22.03 di mercoledì 2 ottobre e ritorniamo alla night session di Bitcoin con analisi ciclica evoluta. Di che cosa parliamo questa sera? Questa sera parliamo di questo, del disegno che avevo fatto e che si può tranquillamente andare a rivedere appunto nell'analisi di ieri, si può andare direttamente qua, del fatto che di nuovo è stato veramente attinente a quella che era l'aspettativa, rimbalzo, discesa e poi avremmo dovuto vedere però che cosa? Avremmo dovuto vedere se la seconda parte del t-3 sarebbe stata più alto o più bassa di questa, della prima parte, per capire se andare short o no. In realtà a noi lo short è scattato qua, ci siamo presi questa discesa arrivando sulle notizie praticamente, anzi dopo le notizie perché erano le 14.15 se non mi ricordavo male, calendario economico, sì, eccole qua, c'era la variazione dell'occupazione non agricola e quindi ci siamo portati a casa un gain rischioso perché non lasciano spazio ai trader in erba e come te lo posso illustrare che sta succedendo questo? Esattamente da quello che ti dicevo, 1, adesso analisi corretta, quindi rimbalzo, fatto, discesa, fatta, 1, ti fanno una finta, ti dicono dai abbiamo chiuso la prima parte del nostro ottavo t-3, andiamo a superarla e andando a superarla noi non dovremmo andare più short, mentre invece noi col tecnica operativa 2 siamo andati short e abbiamo guadagnato. Poi però che cosa succede? Arrivati sulla parte bassa del canale come vedi, rimbalzo pazzesco che dici ma scusa ma noi ci siamo salvati grazie a un take profit, ma eravamo sulla 23esima bar, ho detto a questo punto affondano, andiamo a 24, si va giù, bella finta con questa piccola fintina, hanno fatto la seconda parte del nostro ciclo giornaliero un po' più alta e poi ci fregano, invece no, che cosa fanno? ci fanno eseguire il take profit che noi avevamo tra il nostro prezzo d'ingresso e leggermente sopra rispetto dove stavamo andando, ci si avvicina qua invece che continuare, rimbalzo, devastante, di nuovo finta di vincolo rialzo e di nuovo finta, finta perché? perché fanno così, vanno su in 44esima barra e soltanto chi purtroppo non controlla determinate cose, non conosce l'analisi evoluta, dice dai massimi, che bello, massimi crescenti, vedi, prima parte, qua non ha chiuso, massimi crescenti, adesso da qui parte il nuovo ciclo settimanale, certo, proprio così, e quindi che cosa succede? 44esima barra, ecco perché per noi conta sempre molto il tempo e questa tabella ciclica che mi copiano è sacra, perché questo non è il tempo del migliorino, questo è il mio tempo, il tempo che sono andato a cercarmi nel corso di backtest di decenni su bitcoin, ok? Anzi in realtà di un decennio di qualche cosa, di quinquenni, qui che cosa abbiamo? Abbiamo esattamente appunto 44 barra, ecco perché dico sempre, come ti dicevo anche nel precedente video, occhio, qui abbiamo ormai un death cross che ci racconta che se non saliremo sopra questa media mobile faremo ben poco come rimbalzo e abbiamo l'ennesima condizione necessaria e sufficiente per andare a chiudere tutto un ciclo settimanale iniziato qui o da altre parti e che dato che ha violato il punto j, come ti dicevo tempo fa, se avessimo violato questo livello avremmo potuto continuare a scendere, per effetto di cosa? te lo dico tra un attimo, ok? Prima ti faccio notare un'altra cosa divertente, continuo, ho visto ancora dei commenti di gente che dice che bitcoin si muove come nasdaq, e ma nasdaq è praticamente a quanto dai top? A niente, a un 4% dai top, è talmente vicino che era a meno di un 2% dal massimo assoluto fatto e ci è rimasto per quanto tempo? 54 giorni, niente, bitcoin ha un grafico che ha una forma totalmente differente, come sai, ed è differente anche rispetto ad ethereum e compagni cantanti. E qui poi, nell'analisi che farò domani o se riesco stasera e la posterò domani mattina, sempre su Nasdaq perché me la state chiedendo in tanti, qui c'è stata una violazione importante, se non recuperiamo rapidamente il movimento a rialzo, bisogna vedere che cosa si stanno inventando perché hanno creato delle belle alternative, ma in ogni caso bitcoin assomiglia a Nasdaq? Ripetiamolo insieme, assolutamente no. Assomiglia a S&P 500? No, perché abbiamo fatto il massimo assoluto su S&P 500 qualche giorno fa, a fine di settembre. Siamo su un grafico che spara su che è una meraviglia, bitcoin rischia di ormai di nuovo avvicinarsi ad andare in bear market, voglio dire, e lo ha fatto un sacco di volte. L'S&P 500 non è mai andato in bear market. 9% di perdita massima quando abbiamo fatto la discesa pronosticata peraltro su questo canale, nel tempo perfetto. Chi continua a raccontare che bitcoin si muove come S&P 500 o Nasdaq per piacere, ditegli di staccarsi dalla bottiglia, non utilizzare la colla per usi impropri, oppure di andare dall'oculista perché davvero c'è un abisso tra quello che vediamo su questi grafici e questo movimento, anche soltanto quello che abbiamo avuto appunto a partire dal 27 di settembre. Adesso che cosa facciamo però? Cose molto semplici, ti faccio notare che il canale che tratteggio è uscito da quello di medio, è uscito con prepotenza, proprio guarda caso mentre andavamo a violare il punto J, e proprio mentre ti dicevo guarda che se chiudiamo l'inverso e veniamo qui si va giù ancora di più, che cosa ha fatto? Casualmente ha perso ancora un 4% in una giornata orientativamente, che magari non è tantissimo, ma continua a essere una prosecuzione di discesa con una perdita di valore del quasi un 10% in pochi giorni, e con l'accelerazione dopo la violazione appunto del punto J. Adesso però dobbiamo fare attenzione a varie cose. A che cosa? La prima cosa che appunto abbiamo, creato un movimento di finta, veramente d'applausi, e lo dico col cuore perché sono veramente degli infami, qui, creando questo movimento, tanti hanno pensato che davvero si potesse andare su, non noi che con il tecnica 2 ci siamo evitati di farci veramente male, ma veramente male, perché qui è una perdita sicura, con un vincolo che non esiste, peraltro. Per questo motivo, ricordiamoci che adesso abbiamo più che una condizione sufficiente per chiudere appunto il nostro ciclo settimanale, e con esso anche altro, oltre al ciclo settimanale, e che quindi adesso, soprattutto grazie a questo movimento, che ricorda tanto un raccordo, ma che non lo è, noi abbiamo dei vantaggi sensibili, sensibili tanto, per cui abbiamo la possibilità di capire molto più rapidamente rispetto agli altri, grazie proprio all'analisi evoluta, di cui puoi avere tutte le informazioni, ovviamente andando sul sito analisievoluta.com, richiedendo la guida gratuita, oppure andando nella parte in basso sul contattaci, e chiedendo appunto informazioni sul corso, che riprenderò non so se dal prossimo sabato, ma me lo auguro, adesso devo avere il tempo davvero di leggere le mail, chiedo scusa a tutte le persone che hanno scritto, siete tanti, pardon, non sono giornate in cui ho delle difficoltà, e delle opportunità, e quindi non sono ancora riuscito a rispondere, cercherò di farlo domani mattina, o domani pomeriggio, o più tardi, per cui perdonate l'attesa, periodo non semplice, e davvero sfidante. In ogni caso, che cosa faremo? Adesso, proprio grazie al movimento fatto, noi abbiamo ancora più chiaramente idea di che cosa può succedere. Uno, come vedi, il trend è fortemente ribassista, come sta succedendo tra l'altro su determinati mercati come gli europei. Oggi abbiamo provato ad andare long, abbiamo aspettato fino a che il Tecnica 2 ci desse un long, poi non era affatto convinto, le candele venivano completamente rimangiate, si svuotavano in continuazione, diventavano da verdi a rosse, ci siamo fermati, e appunto vedrai quello che vedrai, e sentirai quello che ti dirò, quando parlerò appunto di Nasdaq. O si rimbalza molto rapidamente, si torna sui massimi, o sarà interessante come situazione, ed è veramente bizzarra su MIP. In ogni caso, qui, se vogliamo far iniziare un nuovo ciclo settimanale, come minimo dobbiamo tornare qui. Minimo, eh? E più passiamo tempo, e quindi spazio sul grafico, sotto questo massimo, adesso siamo arrivati a 5 bar, già 5, siamo arrivati, sì, a 5 barre da 45 minuti, il time frame che ho ideato per le crypto, e per le commodity, e più noi ci muoviamo nello spazio, e più per riuscire a ritornare qui sopra, ascolta bene questa parte, noi dobbiamo andare in violazione di questo, che sta diventando, non so se l'hai notato, il livello dove, se toccato, veniamo spinti dall'altra parte. Abbiamo provato a forare qui per salire? Spediti giù, nella parte bassa del canale. Abbiamo provato a rimbalzare di qua, e a provare a tornare su dopo una discesa? Rispediti giù. Abbiamo provato un'altra apertura e salita? Crash. Male, male, male. Per cui, se dobbiamo iniziare a tornare come minimo qua, per valutare, che tipo di ciclo settimanale potremo avere, che cosa incontreremo come resistenze, e come baluardi sulla nostra strada di rimbalzo? Uno, appunto, il canale stesso, che trovi solo appunto su questo, su questo canale, scusa il gioco di parole, secondo la media mobile in rosso. Questa è quella che ci dirà appunto, riusciremo ad uscire dal trend ribassista, che rischia di portarci di nuovo in bear market, oppure no? Perché tutte le volte che siamo usciti dal bear market, varie volte, e poi purtroppo ci siamo ritornati. E questo non è un buon segnale per Bitcoin, come dico spesso. Per questo motivo, gli allarmi dovevano piazzati. Come di consueto, appunto, qua, ok, quindi sul massimo a 62.480, vincolo e rialzo, ok, lo segniamo così, anche se in realtà dovrei segnare un'altra cosa, ma ne parlerò nel premium. poi ci segniamo altre due cose interessanti. Uno, la prima resistenza dinamica, che passa a 63.663 dollari, è dinamica, occhio, quindi si sposta un pochino, che è importante di nuovo. E poi sotto, ho lasciato un livello, che è interessante per il gruppo premium. Perché? Perché adesso, se vai a vedere il grafico a candele giornaliere, e noi siamo arrivati esattamente a uno dei target che davo, se non mi ricordo male, durante la trasmissione di Swissquote. Probabilmente, appunto, lo trovi qui, su Money Moves, canale Swissquote in italiano, e trovi, appunto, che davo che cosa come target? Quello che è stato poi effettivamente raggiunto, ossia quello delle medie mobili, a 5A, in rossa e in blu, sul grafico a candele giornaliere. e siamo al secondo test. Solitamente, la figura del doppio massimo dovrebbe farci salire, ma, come già detto, se non riusciamo ad avere una forte rimbalzo, che ci porti sopra questo livello di resistenza, cumo, limite superiore della cumo, qui sopra, eccetera, continuiamo con il nostro ciclo mensile. Continuiamo con il nostro ciclo settimanale, che poi va fino a 11 giorni, come ben sai, dalla tabella ciclica, che, appunto, non è una tabella ciclica fatta da Hurst, o dal migliorino, è la mia tabella ciclica. e quindi occhio, occhio peraltro che, adesso ci auguriamo di riuscire a rimbalzare, ma, ecco la candela rossa, che, tac, salta fuori puntualmente, ma noi siamo a 30 barre. Noi, purtroppo, possiamo continuare a scendere, senza fare un, 5 barre sopra un minimo, fino ancora, teoricamente, alla 44esima barra, che chiude domani, alle 8 di mattina. Quindi, attenzione a andare nullo per scontato, perché qui, si sborda anche, dal canale ribassista. E se vuoi vederlo aggiornato, il suggerimento è di tornare qui. Per cui, se ti è piaciuta questa analisi, ti ha dato varie risposte, magari varie indicazioni, metti un bel like. Non siete tanti a mettere like, ma va bene lo stesso, ognuno ha il suo. Il like è un gesto di generosità, nei confronti di chi fa analisi, gratuite, e che anche alle 22.19, invece che guardarsi un film, o leggere un libro, si mette l'impegno, a lavorare sui grafici. Fatemi capire, se siete generosi, oppure no. A voi la scelta. Intanto, il mondo è perfetto, così come è, e io lo accetto, in ogni caso. Buona serata.